WeGrill per l'ambiente. Immaginate che un ristorante di 120 coperti mediamente per poter cuocere la braccia ha bisogno di una quercia ogni mese. Dal 2018, grazie a tutti i professionisti che si sono rivolti al sistema broiler system WeGrill, abbiamo salvato dal disboscamento 24 ettari di foresta di querce, pari a 34 campi da calcio. Secondo uno studio dell'Università di Manchester, una grigliata per una famiglia di 5 persone arriva a immettere in atmosfera polveri sottili come un'auto che percorre 130 km. Ora, se noi a questo dato base calcoliamo quante polveri sottili puoi mettere la cottura alla braccia di un ristorante di 120 coperti, arriviamo a pensare a 25 auto che percorrono 130 km ed immettono in atmosfera quelli polveri sottili. Dal 2018 ad oggi il broiler system WeGrill, grazie a tutti i professionisti che hanno scelto di applicarlo nei loro ristoranti, ha contribuito a ridurre l'immissione in atmosfera di gas e polveri sottili equivalenti ad un'auto che percorre 13.000 volte il giro del mondo.